YOLANDA SWEETS Grazie a mio fratello, a mia mamma, a mio padre Grazie anche a voi Finalmente è nato il sito Il sito è www.yolandasweets.it E cosa potrete trovare su questo mio sito? Vi ricordo www.yolandasweets.it Ve lo lascio qua gigante in sovraimpressione Andate adesso, adesso Andate a vedere Mentre sto facendo questo video Andate a vedere Cosa c'è? Cosa ci sarà su questo sito? Ci saranno i miei gadget Il mio merchandising Ossia Vi faccio vedere Dopo vi faccio vedere anche il sito Vi mostro la schermata qua Vi faccio vedere prima cosa ci sarà sul sito Il sito è già attivo Quindi da adesso è già attivo Quindi se volete comprare le cose Il mio merchandising Magliette, tazze Tutto quello che trovate sul sito Se lo volete comprare Potete già comprarlo I metodi di pagamento sono tantissimi Quindi anche con la posta pay potete comprare Carte di credito Qualsiasi cosa La spedizione è con corriere GLS È super affidabile Ho cambiato corriere ragazzi Quindi è top Ok Comunque cosa trovate sul mio sito? Trovate i popsocket Allora c'è questo popsocket Qua per il cellulare Perché so che voi Vi piacciono i popsocket Fate i tiktok Quindi Allora c'è questo qua Con la mia immaginina Yolanda Switz Vedete che bellina la bambolina Ringrazio Amarillis Che è stata la mia disegnatrice Per le magliette e tutto il resto E ringrazio anche Il mio distributore Che è Slide24 Che ha fatto per me tutte queste cose Allora ragazzi Questo è il primo Questo è il secondo popsocket Che è con Daniele Vedete la Switz Family Questo è con Daniele Che è bellissimo Poi c'è questo qua Che come non potevo non fare Il popsocket La life ragazzi E c'è questo qua Che è il mio logo Del sito È proprio il mio logo dello shop Yolanda Switz Slime Ed eccolo qua Questo qua ce l'ho anch'io Dietro al telefono Perché mi piace veramente un sacco Cosa troverete Non solo i popsocket Ma anche le penne Non solo bianche Ci sono tutte di tutti i colori Potete andare a vedere sul sito Dopo vi faccio vedere È fatta così Con questa palla in cima Le penne sono blu E c'è la penna La penna scrive di colore blu Ed è fatta così C'è scritto Yolanda Switz Con due cuoricini Qui E qui c'è come sempre La mia bambolina Guardate qua che bella La penna Adesso ve l'ho presa bianca Per farla vedere Ma astucci Questi sono gli astucci Potete trovare Questo qua Vedete il mio sito Eccolo qua Guardate che bello Vi arriveranno così Imbustate Guardate che meraviglia Messe all'interno degli scatoli Tutti ben impacchettati Questo qua www.yolandaswitz.it Ragazzi E questi sono i due astucci Due modelli Che potete trovare L'astucciola Life Che su questi Anche sulle magliette C'è la mia firma Ragazzi Ed è incorporata E poi c'è questo qua Yolanda Switz Con la mia bambolina Questo è l'astuccio Portapenne Matite Quello che volete Poi Le tazze Ci sono tre modelli di tazze Questi qua I love slime Adesso ve la faccio vedere Vedete le scatole Come sono belle Questa qua Io già ce l'ho Per farci colazione Poi c'è questa Yolanda Switz Con il mio logo Ragazzi Per questo progetto Ci abbiamo messo Anima e corpo Veramente tutto Il nostro cuore Speriamo che queste cose Vi piacciono davvero Guardate che bella La tazza così Con i splash di slime Con Yolanda Switz Scritto qui E poi c'è questa qua Che è la mia preferita Ragazzi Che lo sapete Che è il mio animaletto Che mi piace di più Che è il ciribò La Yolanda Switz Con la mia firma E questa sono io Sulla F e sulla E Guardate che bella La tazza Le tazze sono le mie preferite Poi ci sono Le sacche Allora Le sacche abbiamo fatto Due modelli Che è questa qua La Yolanda Switz Che si stringe sopra Qua è di cotone Davvero super resistente C'è la sacca qui E c'è questa sacca qui Che è I love slime Vi ricordo il sito www.yolandaswitz.it Poi Lo zaino Che questo è super fantasticoso Vedete È imbustato Lo zaino È super capiente Ed è fatto così Con il cuore Yolanda Switz Quella che c'è anche Sulla tazza E questo Poi vi faccio vedere Le magliette Queste sono solo tre Ma in realtà Ne ho fatta anche Un altro modello Ho fatto il modello Quella di me Daniele sopra C'è questa qua Con la life Queste sono a mezze maniche E ci sono di varie misure E questa qua Praticamente Che è uguale a questa Che vedete Raffigurata qui In pratica Ve la faccio vedere Non vorrei aprirla Ma per farvela vedere Magari la apro Allora Eccola qua Guardate che bella Guardate la maglietta Che bella Yolanda Switz Guardate con la macchia Con la macchia Praticamente di slime Fatta così Che è bellissima Poi c'è Alla life E questa qua Che è uguale A quella della tazza Che è Che è Che è questa Praticamente è uguale Poi vi faccio vedere Una delle tante felpe Le felpe praticamente Hanno il cappuccio Che andate sul sito Quindi potete trovare Anche gli altri modelli Sempre su www.yolandaswitz.it Magari datemi altre idee Se vorreste altri gadget O altri tipi di magliette Il sito è aperto a tutti In tutta Italia Quindi potete comprare Tutti quanti Basta avere una carta Quindi potete comprare tutti Guardate la felpa Guardate che bella Ovviamente questa è Per voi che siete Più piccolini Più piccoli La life E poi ci sono anche Altri modelli Adesso vi faccio vedere Vi comparirà Qua la schermata Vi faccio vedere La registrazione Dal sito Vado ad aprire Il mio sito Eccolo Eccolo come vi compare Ragazzi Guardate qua Yolanda Switz E everyone Benvenuti nel mio shop Vi volevo dire Che domani All'ore 18 Esce il video Dove vi farò vedere Gli slime in vendita Gli slime Saranno sul mio Sito www.yolandaswitz.it Insieme al mio merchandising Gli slime Saranno sul mio sito Domenica 11 novembre Alle ore 18 Appuntatevi Perché io farò Il restock Due volte alla settimana Quindi due volte alla settimana Metterò gli slime Sul mio sito Vi farò il video Anche su youtube E vi farò vedere Gli slime che metterò Questo qua È la pagina iniziale Andate dove sono Queste tre sbarrette E vedete C'è home Negozio Foto Che siamo Contattaci Eccetera Negozio Vedete Trovate tutto Eccolo qua Tutti i prodotti Questi sono tutti i prodotti Che troverete All'interno Del mio shop Guardate qua Guardate qua Che belli Taratan Questa era l'altra maglietta Che vi dicevo Questa qua con me E Daniele E voilà Ci sono le felpe Ci sono i popsocket Ci sono le penne Tutte colorate Le tazze Poi Potete trovare anche Gli slime Che in questo momento Ovviamente Non ci sono Perché verranno messi Domenica 11 novembre Alle ore 18 Non perdete il video Di domani Sabato pomeriggio Dove ve li farò Vedere Ve li mostrerò Quindi segnatevi tutto Ci sono anche I miei libri Se volete i miei libri Eccoli qua Sono acquistabili Tramite il link Di Amazon È sicuro E non vi dovete Preoccupare Si paga Appunto Tramite Carta Come vi ho detto È sicurissimo Sicurissimo Qua per esempio Chi siamo Vi faccio vedere Un po' il sito Vedete che bella Questa immagine Hello switz family Qua vi ho raccontato Un po' di me Eccetera Se ci volete contattare Per qualche problema Dovete scrivere il nome La vostra mail E mandarci un messaggio Non ci mandate messaggi Se non avete problemi Perché vanno a finire Nella cartella di spam Se volete registrarvi Al sito Potete registrarvi Così potete avere Tutte le informazioni E le news Riguardanti Quando io Metto gli slime Eccetera Infatti vedete Qui c'è il login Se volete entrare Guardate che bello Accedi con l'account E potete accedere Se vi volete registrare Al mio sito Ma non è necessario Queste sono tutte le cose Che io avrò Nel mio shop Se magari ci saranno Delle novità Oppure altri gadget Che inserirò Oppure altre cose Che metterò Tipo che ho pensato Di mettere la mia colla Il mio attivatore Metterò anche Delle mystery box Metterò anche Di kit Quindi non vi preoccupate Ragazzi Questo è solo l'inizio Potete già andare Ad acquistare Sul mio sito Che è www.jolandasweeds.it Segnatelo ragazzi Potete già andare Ad acquistare Il sito è attivo Gli slime Vi ricordo Che ci saranno Sul mio sito Domenica 11 novembre Alle ore 18 È il mio sito Personale Gestito da me Da papà Giuseppe Da mio fratello E da Daniele Quindi noi controlliamo tutto Non c'è nessun altro dietro Noi 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 spediamo la merce Noi spediamo gli slime Noi facciamo tutto Quindi è tutto gestito Da noi Con Corriere GLS Niente Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero che questo mio progetto Mio e vostro Vi sia piaciuto Tutti i gadget Vi siano piaciuti Se avete altre idee A altre idee Per i gadget Fatemelo sapere sotto In un commento Io vi mando Un bacione fortissimo Vi voglio tanto bene E come sempre Ci vediamo domani L'ore 14 e 30 Con un nuovissimo video Bye bye